Ma non ci vuole, ma non ci vuole un'attesa, non ci vuole un'attesa, non ci vuole un'attesa, ma ci vuole un'attesa, non ci vuole un'attesa, ma si tratta di un'attesa. E' diverso da iniziare, è diventato un'attesa, è diventato un'attesa, di visione, seri di valore. Con Mario Cavaldesi amico so... Ma male, male, con gli fischi! Faccio pure l'Oven Churri di Roma, ma perchè non chiede, dai dai, dai! Non si vorrei, ormai lo sa da The Pack, e divertiremo insieme